Ciao a tutti, nel nuovo video andremo ad aprire queste due blind box che ho acquistato a Napoli nel negozio Miniso. Si trova all'interno della stazione di Napoli, centrale, quindi se non siete mai stati lo trovate lì. Io l'avevo visto in Italia, anche a Bologna, abbastanza in centro, quindi a Milano che io sappia non c'è questo negozio, quindi l'ho trovato soltanto Napoli e Bologna, e all'interno c'è un sacco di roba kawaii cute e un sacco di mystery box. Visto che ieri dovevo aspettare un bel po' la partenza del mio treno, per sfruttare l'aria condizionata ci ho fatto un giro e ho acquistato queste due box. Tokidoki, non so se lo conoscete, comunque è un brand nato da un creator italiano, quindi è un illustratore italiano che ha inventato vari personaggi, e è abbastanza famoso, anche se in Italia io non ero mai riuscito a trovare queste mystery box, e finalmente l'ho trovata, c'era solo questa della Tokidoki e l'ho acquistata, ce ne sono tante altre, quindi Unicorno, Donatella, tante serie famose Tokidoki, mi piace un sacco vedere video di questi tipi dall'America, e finalmente l'ho trovata anche in Italia. Eccolo qui, questo è Tokidoki, Mafia Breakfast Bestie. Come vedete ci sono tutti i personaggini a tema colazione, quindi c'è l'aranciata, il latte alla fragola, il bubble tea e così via, quindi davvero davvero molto carino, anche qui c'è sempre il Chaser, la rara, e in questo caso è questo qui, Mary Mary, sarebbe un Bloody Mary penso, rivisitato, eccolo qua, tra tutte queste, diciamo, quelle che mi piacerebbe trovare di più sono Toki Pops, che è una busta di latte, non so se vedete, con i cereali, e anche Strawberry Selfie mi piace parecchio, quindi queste due, anche il Peanut Butter Boy è carino, e il caffè, comunque molto molto bello, questo l'ho pagato 9,99€, vi mostro lo scontrino, quindi questo è il logo, vedete, del negozio, Miniso, e ho pagato la Tokidoki 9,99€, mentre l'altra, a tema Disney, 14,99€. Quest'altra, come vedete, a tema principesse Disney, sembrano fatte davvero davvero molto bene, e qui sulla copertina c'è Bell, e all'interno di questa blind box, vedete, figure, blind box, ci sono 9 possibili opzioni, e sono queste qui, allora, c'è Jasmine, c'è Bell, c'è Rapunzel, Mulan, Ariel, Merida, Biancaneve, Cenerentle, e penso che questo sia il Secret di Aurora, e diciamo di tutte queste, le mie preferite, che vorrei trovare, perché sembrano un po' più particolari, sono Merida, Mulan, e Rapunzel, comunque sono tutte molto carine, e volevo vedere com'era la qualità di queste blind box di Miniso, e ho trovato queste, ce ne erano davvero tante, altre a tema, My Melody, della Sanrio in generale, ma ho preferito prenderne una Disney, e niente, magari poi se torno in stazione e ho tempo, mi rifermo e ne prendo qualcun'altra, fatemi sapere se queste blind box vi piacciono, se le avete già viste, e lasciatemi qualche feedback nei commenti. Allora, inizierei da questa qui, della Tokidoki, la confezione, come tutte quelle Tokidoki, sono davvero fatte benissimo, e molto bene, e non vorrei rovinarla, quindi voglio provare a non distruggere la confezione. Come fare? Non ne ho idea, forse da qui, vediamo, sì, ok, forse ce l'ho fatta, dai, l'ho salvata abbastanza, tra l'altro avevo stampato anche, avevo comprato degli stickers a tema e li avevo inseriti nella resina tempo fa, Allora, c'è anche, penso, la checklist, sì, eccola, allora, vediamo, vabbè, quello che c'era già, diciamo, ad introduzione, ed abbiamo tutte le... sono 3, 6, 9, 12, 12 figure, qui una breve descrizione della serie. Comunque, se siete intenzionati a leggerla, mettete pure in pausa, e metto un po' meglio a fuoco, così poi potete leggerla da soli. Comunque, sono davvero dei personaggini. Questa è la box, come si presenta, non voglio tastarla per spoiler, Comunque, vedete, ci sono tutti i simbolini della Tokidoki, questo qui è il simbolino. E vediamo chi troviamo. In realtà io ho cercato di prendere quella un po' più pesante, almeno secondo me, per le buste di latte. Ah, cavolo, c'ero vicino, molto carino anche questo, ma abbiamo trovato... Guardate che non mi ricordo il nome... Juicy Juice. Eccolo qui, molto carino, l'aranciata. Vedete, ci sono i piedini. Qui c'è un graffio, però, peccato. Sì, è un graffietto, non so se riesco a farvelo vedere. Però, diciamo, è dipinta molto bene, gli accessori sono carini. E eccola qui. Quindi questa era la prima figure del video. E aspettate che ve lo rimetto così. E andiamo a vedere della Disney. Anche qui non vorrei rovinare la confezione. Ok, ce l'ho fatta. L'apertura è affacilitata. E all'interno vediamo chi troviamo. Allora, anche qui cerco di non prendere spoiler. Perché vedo altre confezioni all'interno. Allora, abbiamo Fairy Town e la collezione della Disney. Vedete? Eccolo qui. Ed è bella grande la figure. Sembrava più piccola, invece è bella grande. E vediamo chi troviamo. Fairy Town. Ed abbiamo... Eeeh! Volevo! Era una di quelle che mi piacevano di più. Abbiamo trovato Mulan. Guardate. Con questi occhi. Con... L'albero di ciliegio. Mulan è una principessa sempre un po' bistrattata. Ma secondo me è molto carina. La storia in generale. Vedete? Eccola qui. Mulan con il suo drago. Questa è la card. Disney Princess. Fairy Town. Ed abbiamo anche qui... Oh, ce la posso fare. Davvero una bella figure. Quindi ve le consiglio. Allora, vedete? Non so, qui c'è un gancino. E qui c'è il... L'aggancio. Metto in pausa un attimo. Eccola qui la figure. Anche queste dipinte molto molto bene. I vari dettagli sono davvero fatti bene. Eccola. Ed abbiamo trovato Mulan. E devo dire che mi piace molto. Quindi questa... Vedete la differenza anche tra le due figure. Quella di Mulan è molto più grande. Comunque, io che sono malato di blind box. Mi sono piaciute. Penso che ne ricomprerò anche altre in futuro. Non so se troverò le stesse collezioni. Ma approvate. Anche queste qui della marca Miniso. Che non avevo mai comprato. E devo dire molto belle. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso mettete un like. E iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto. E fatemi sapere quali delle due vi piace di più. Se questa qui della Tokidoki. O Mulan della Disney. Ciao. Alla prossima. Grazie a tutti.